Sì, io cerco di raccontare la guerra con gli occhi di chi l'ha vissuta. Uomini nelle trincee e donne che rimaste a casa prendono posto degli uomini, coltivano i campi, lavorano in fabbrica. Sofferenze che oggi non riusciamo nemmeno ad immaginare, però nello stesso tempo una forza morale, una capacità di resistenza che tornerebbero utilissime anche oggi nell'altra guerra che noi dobbiamo combattere. L'Italia con la guerra, che era meglio non fare, alla fine però la vinse, poteva essere spazzata via e dimostrò di essere davvero una nazione. Ora sta a noi vincere la guerra contro la crisi e con la forza morale che i nostri nonni dimostrarono nelle trincee io penso che non possa essere andata dispersa con il passare del tempo e sta a noi ritrovarla dentro noi stessi e riaccenderla dentro i nostri figli. Chiediamo agli iscritti di quei ragazzi, di quelle trincee che oggi in qualche modo ricordiamo anche in questo libro, chiediamo a loro se la parola pace non è importante. Invece che FF sta qua, questi convegni, queste parolone, questi ragionamenti, chiediamo a chi ha provato le sofferenze, chi ha provato quei momenti, leggiamo cosa hanno scritto per capire il valore della pace. Probabilmente se qualche volta perdiamo qualche attimo a non fermarci ai soloni, ma a guardare i nostri semplici ragazzi di quelle trincee, forse capiremo cos'è il valore della pace. Grazie a tutti i nostri semplici ragazzi. Grazie a tutti i nostri semplici ragazzi.